La benedizione degli animali trova le sue radici nelle leggende di un tempo che raccontano che durante la notte del 17 gennaio agli animali veniva data la facoltà di parlare. Durante queste ore la distanza tra uomini e animali si accorciava e i due mondi si trovavano ad essere incredibilmente vicini. La tradizione cristiana ci porta a Sant'Antonio Abate invece e alla benedizione che come di consueto avviene in piazzetta Silos a Bitonto nei pressi della chiesa di Santa Teresa. Grazie all'impegno del presidio locale della Proloco domenica mattina Don Ciccio Coffredda ha benedetto i preziosi amici dell'uomo dai cani ai coniglietti, dai pesci rossi ai gatti fino al greggio di pecore giunto da via Megra. Una grande affluenza per una vera e propria festa che unisce tutti coloro che amano, rispettano e condividono il quotidiano con gli amici animali.